Fisica 2, onde e elettromagnetismo, propagazione nei fisica dei fluidi, Bologna, FAM non se ne esce, cavalloni con lunghezza d'onda di circa 4 metri, con periodo superiore alle decine di microsecondi, l'energia viene trasportata attraverso l'acqua, vediamo l'arrivo fino alla rottura della cresta, Bivione non se ne esce, Pasquetta 2008.